Scusa, mi sono distratta un attimo. Va bene, sì, ho detto che volevo cambiare vita, ma non così tanto. Poi il bianco e il nero non è che mi sta neanche tanto bene. Amelia, il Signore è con te. Con chi? No, io veramente sono da sola. No, no, Amelia, che hai capito? Il Signore è con te. Sì, tu da questo momento sei una suora. Io? Sì, sì. Scusa, ma tu chi sei? Io sono Gaetano, angelo di seconda classe. Sì, sono venuto a dirti che tu devi salvare il convento. Io devo salvare cosa? Ma che cosa? Ma tu non sei un angelo, tu hai Dio, Dio vede e provvede. Sì, sì, certo, Dio vede e provvede, ma se non basta, c'è suora Amelia. Che sarei io? No, un errore. Siete pronti per un miracolo? Certo, l'abito non fa il monaco, ma a volte aiuta. E così aria nuova in convento, da quando è arrivata lei. Suora Amelia de Galbiate, 32 anni e economa. Una suora un po' particolare, ma con una missione speciale, salvare il convento e ritrovare se stessa. Io sono una donna, non sono una santa. Un cast davvero esplosivo per una scatenatissima serie tv per la regia di Enrico Oldoimi. Dio vede e provvede. Domani, 20 e 50, canale 5. Bisogna essere molto cauti. Ci possono essere molte spiegazioni. Bisogna studiare ogni particolare per bene. E inoltre è la madonna. Senti, se ti dico una cosa, prometti che non la dici a nessuno. Eh? È promesso, sì? Prometti, sì. Allora io ho mangiato la pasta fredda, due uova, uno sfilazzino di mortadela così, e dei peperoni. Pardoschi. C'è una chiamata per lei. Un certo pistacchio. Grazie, l'aspettavo. È un'opera di mele. Di mele magico. Sì, di mele. Di mele. Ecco, mi avrevo fatto chiamare? Sì, sua pendia. Perché Dorotea non si è il c***o? Anzi, per molti è difficilissimo. Sa perché? Perché? Perché, perché, per sapere, per sapere, va. Per molti è difficilissimo. Sa perché? Perché? Perché, perché per cucinare, per cucinare bisogna, bisogna avere la mano, bisogna avere il ritmo, il ritmo giusto. Ecco, perché io so come, non ricordo questa battuta di merda. Permetti che sacchio? Scusa, ma la sono messa sul mare. Ma che ha detto? Che? Che imbezzano c'è! Noi, ma sono messa sul mare. Grazie a tutti